in questo video farò vedere come resettare i tamponi dell'inchiostro di scarto di una stampante in jet epson xp 2100 questo metodo comunque funziona per tutte le macchine epson sarà necessario comprare un servizio di reset costerà circa 9 euro ci sono molti altri siti web che affrono questo servizio ma io ho testato questo e questo servizio funziona non ci sono virus e non ci sono problemi c'è un'ottima assistenza nel caso tu ne abbia bisogno il link è nella descrizione per cominciare apri la pagina web della in chip clicca su vic qui c'è la lista dei modelli di epson che si possono resettare se la tua macchina non è in questa lista contatta in chip ti aiuteranno ora devi scaricare il programma puoi scegliere tra diverse lingue clicca qua e aspetta che finisca e download ci vorrà qualche secondo adesso devi comprare il servizio clicca su buy check out inserisci i tuoi dati l'email è importante perché il codice di reset verrà spedito via mail scegli il pagamento place order dopo il pagamento ti manderanno via mail un codice come questo ora installa il programma sul tuo pc scegli waste encounters trova la tua stampante clicca su reset waste encounter inserisci qua il codice che ti hanno mandato via mail clicca ok fatto spegni la stampante e riaccendila leggi il contatore dell'inchiostro di scarto zero ricordati che il reset non funzionerà se i tamponi sono veramente pieni di inchiostro in questo caso dovrai prima pulire o sostituire le spugne o presto ti ritroverai un altro messaggio di errore in questo canale troverai le istruzioni per rimuovere i tamponi dell'inchiostro di scarto delle stampanti epson inseriscizze